Tu sei nel cuore di tutti i tifosi italiani, di tutto il mondo, sempre giocatore numero uno, giri il mondo e tutti parlo di Roberto Valle, questa è una grande cosa. Senti, pensa, si. Se volete venire a fare la terza mezza punta a Milano, magari porti il posto a Caccaruino. No, sì, no, non è possibile. Ne vieni il nostro spugliatore. Per caso, ma ogni tanto cosa succede? Come stai? Dov'è no? Ho detto che ti ho detto che siamo stati felici di ammirarti, non ho tutto l'altro, della tua stagione calcistica e che la firma ancora in grande forma, la grande campione che non c'è stata. Io sai che condivido tutti i temi, non è il codino che c'hai ancora. L'hai tagliato, va bene, allora siamo perfetto, eccoci qua. Avevo sperato di averti nella tournée del Milan, mi sarebbe piaciuto tanto, però tu, siccome aspetti forse una convocazione, no, 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 peccato però, non ci puoi ripensare, no. È bello, ti ho partito, vederti lì mi avrebbe dato a tutti noi una grande gioia. Grazie, grazie. Se ci ripensi siamo felici. Comunque, tanti, tanti complimenti. Adesso ti aspetta un'altra stagione, che sarà bella e piena come questa. Comunque, complimenti. Visto lo stadio, in che modo ti ha tributato un saluto? Anche perché ci ricordiamo di quando la viro mai la sera. Ciao, grazie. Grazie mille.